Bisogna snellire le procedure nelle cause di nullità matrimoniale secondo un criterio di giustizia e di carità, perché c'è tanta gente che ha bisogno di una parola della Chiesa sulla sua situazione, per il sì e per il no, ma che sia giusta. Così Papa Francesco, ricevendo i partecipanti al corso di prassi canonica superrato, promosso dal Tribunale della Rota Romana. Prima dell'udienza generale, in Aula Paolo VI, il Pontefice ha ricordato poi il recente sinodo straordinario dei Vescovi sulla famiglia, precisando che nel corso dell'assise sono stati trattati anche questi temi ai quali la Chiesa deve rispondere con gratuità. Avanti sempre, no? E' la madre Chiesa che va e cerca ai suoi figli per fare giustizia. E' anche essere molto attenti che le procedure non siano dentro la cornice degli affari. E non parlo di cose strane. Ci sono stati anche scandali pubblici. Io ho dovuto concedere dal Tribunale una persona che, tempo fa, che, ma, diecimila dollari ti faccio le due. Il civile è ecclesiastico. Per favore questo no. Per favore questo no. Il civile è ecclesiastico.